può la radio con un cuore intorno sognare si può e non è peccato sognare si può anzi devi se ci credi ogni sogno diventa realtà le rubriche divana post sognare si può buongiorno siamo un pochino in ritardo ma facciamo il punto con il ragioniere giuseppe imperato buongiorno abbiamo qualche possibile problema di audio nel senso che abbiamo i lavori proprio qua di fronte alla nostra location che è in corso peschiero 246 hanno deciso oggi di aprire i marciapiedi nuovamente e quindi se volete venire a prendere un caffè da sporto potete ma sappiate che dovete mettervi le cuffie perché di tanto in tanto partono dei forti rumori ma noi approfittiamo per chiedere al nostro consulente che tu ti occupi di piccole e medie imprese e quindi hai molto il polso di quello che stanno vivendo le piccole e medie imprese che poi in realtà sono quasi la totalità sono il 95% del tessuto economico italiano esatto per cui insomma è una realtà importante una realtà importante che va tenuta diciamo in debita considerazione soprattutto da parte delle autorità certo assolutamente e quindi è importantissimo ovviamente poter dare delle informazioni e noi cosa possiamo dire siamo in fase nuovamente di cambiamento con i nostri colori a proposito dell'ultimo dpcm probabilmente oggi sarà decretata da regione arancione e piemonta comunque ci sarà quindi ci sarà più libertà di movimento comunque potrebbero anche non lo so dare potrebbe la cosa potrebbe dar corso al fatto di riapertura di nuove attività che prima erano che prima non erano certo certo ne parlavamo fuori onda uno dei grossi problemi e delle incertezze che è tutto sommato ci possiamo oggi non abbiamo la possibilità come dire di affrontare cosa possiamo dire ai nostri non abbiamo la possibilità di affrontare anche perché i dpcm e le varie diciamo i vari decreti si susseguono giorno per giorno e a volte l'uno diciamo rinnega l'altro comunque cambia parecchie cose dell'altro la situazione è sempre sempre la stessa non c'è sempre una situazione abbastanza di stallo anche perché le quelle quelle attività che nelle regioni rosse con i codici rosse con i codici a teco sono state chiuse sospese hanno tirato immancabilmente dietro di sé tutta la filiera quindi io per esempio ieri ero in un'azienda di trasporti che mia cliente che svolge attività esclusivamente di trasporto refrigerato per i ristoranti ha di nuovo tutti i dipendenti in casa integrazione quindi non è solamente quello che si conclama o si dice per i mezzi di informazione e quant'altro che sono solo quelle attività non è solo quell'attività perché dietro il bar e il ristorante dietro la palestra o la discoteca che sia c'è tutta la filiera che la segue che continua a muoversi e che continua a muoversi e che comunque rimane rimane bloccata almeno su quel filone meno male che questa filiera a volte come per esempio le imprese terziarie di servizio svolgono anche attività per altri per altri settori tipo industriali o di commercio per cui però comunque subiscono un rallentamento dell'attività e con conseguente perdita di fatturato e profitto e questo ovviamente diventa un problema per tutti ovviamente non solo per le attività che stanno chiusa esatto perché parlavamo per esempio ieri in un incontro in un collegamento abbiamo fatto con il presidente dell'associazione vetrinisti e visual europei il presidente Pasquarella che illustrava questo stesso problema loro che ovviamente hanno a che fare con i negozi con tutte le attività si sono trovati ad affrontare un periodo di fermo molto lungo perché il primo lockdown questo secondo semi lockdown li vede comunque fermi ciò si capisce non giova alla conclamata ripartenza perché quelli lì poi alla fine restano solo dei proclami secondo il mio modesto parere perché dice sì adesso abbiamo fatto diciamo che è un lockdown non un mini lockdown è un lockdown è un lockdown è un lockdown sì come è stato fatto da marzo a maggio scorsi quindi ha creato le stesse difficoltà gli stessi disagi e le stesse problematiche dell'altro anche se non è non era diciamo non è del tutto diciamo assoluto come era stato quello però venivamo già da una venivamo già da un periodo diciamo molto duro che è stato il primo diciamo chiamiamolo il primo semestre del 2020 qualcosa si è ripreso nel secondo nel terzo trimestre del 2020 tant'è che l'italia ha fatto un più 16 un più 16 di pillo mi sembra così come attestato dall'istat ma si è annientato sia col precedente periodo dove c'è stato quindi dal gennaio diciamo di fatto dal gennaio a giugno dove c'è stato la una chiusura generalizzata delle attività e adesso tuttora con la penalizzazione del che anche se parziale però comunque coinvolge un buon numero di un buon numero di soggetti di imprese diciamo operandi nel tutti un po in tutti i settori soprattutto del terziario e della della grossa della distribuzione cosa diciamo possiamo aspettarci da qui a breve cioè nel senso diciamo che ci sono ovviamente siamo in attesa dei vari dpcm e quindi più di tanto mi rendo conto diciamo che ieri come è stato detto per televisione c'è stato quindi questa approvazione dello scostamento di bilancio di 8 miliardi nella predisposizione della legge di bilancio dello Stato approvata da tutte le forze sia di maggioranza che di opposizione a patto che si incida effettivamente su quello che adesso poi i decreti attuativi sono ancora tutti da emanare perché questa qui è solo la delibera generale sulla legge di bilancio che la quale poi ha bisogno dei vari decreti attuativi che entreranno in vigore da qui alla fine all'inizio dell'anno a gennaio e che quindi tenendo conto delle linee guide della stessa però quello che c'è da secondo me quello che c'è da auspicare è che queste risorse ancorché in debito vengano destinate comunque effettivamente all'attività ma non col semplice ristoro di una percentuale su un mese o qualche mese di fatturato sul come è stato fatto nelle altre parti sul diciamo così sul quello che è stato la perdita effettiva già già acclarata in capo alle piccole aziende la perdita effettiva dell'anno 2020 sia in termini di fatturato che in termini di profitto ma soprattutto guardiamo in termini di fatturato che il fatturato poi genera a suo otto profitto ma genera anche occupazione genera anche diciamo movimento dell'economia ecco quindi fare un ristoro effettivo concreto sulla base dei fatturati dichiarati non facendo riferimento ai singoli mesi che non ha nessun senso e adesso è comunque è un semplicemente un palliativo atteso che anche per in questo secondo in questa nell'ultima nell'ultimo caso diversi parecchie aziende ancora ancora stanno aspettando i ristori ancora del mese di agosto certo e questo ovviamente ha un bel peso e questo ha ancora un bel peso certo non sono ristori proprio diciamo concreti effettivi di quello che dovrebbe perché il ristoro effettivo nel momento in cui io l'azienda sono stato chiuso 4-5 mesi in proporzione ho avuto un tot fatturato dovrei avere un ristoro in base a quello che è stato il mio fatturato dell'anno precedente che mi consente in qualche modo di tirarmi su di far fronte almeno ai costi fissi certamente dall'altra parte supportare col discorso della cassa integrazione a favore degli operai che comunque anche in questo periodo anche in questo periodo per diverse realtà soprattutto ripeto le realtà della filiera collegata alle attività chiuse sono in default perché le aziende come ti dicevo prima che di autotrasporto le aziende della filiera che serve la ristorazione che servono i bar che servono le discoteche che servono tutte le attività chiuse ha di nuovo la stessa problematica ossia cassa integrazione per i dipendenti cassa integrazione che già precedentemente è stata data col contagocce ed ancora ci sono ancora moltissime situazioni dove non è stato ancora erogato a volte o è stato erogato solo in parte l'assegno quindi con queste premesse secondo me noi non andiamo da nessuna parte adesso cerchiamo è chiaro che è chiaro no ma ci vuole quello purtroppo noi siamo qui a discuterne come dobbiamo prendere atto dobbiamo prendere atto io come operatore del settore ma te anche come diciamo cittadini che ogni giorno si informano sui mezzi sulla stampa, sul web eccetera eccetera e comunque dall'altra parte non si vede io ritengo che non si vede un segnale forte un segnale forte di riscontro a quella che è una situazione ormai per quanto mi riguarda quindi facendo riferimento alla piccola e alle micro imprese è divenuta abbastanza insostenibile concordo concordo voglio dire ai nostri ascoltatori che siamo spariti per un attimo ma siamo tornati come dicevo abbiamo avuto qualche problema in sottofondo perché ci sono dei lavori qua di fronte ci scusiamo però insomma siamo qui per dare per parlare con voi e voglio portarti i saluti e la presenza di Gabriella Gabriella Rotiroti Laura Mosca sono persone in particolare per esempio Laura che con la propria attività lei è insegnante oltre ad essere un'artista quindi una pittrice eccetera però è insegnante di vetrinistica appunto i suoi corsi sono praticamente fermi da marzo e quindi effettivamente ci sono delle realtà che stanno soffrendo questa situazione in maniera particolare voglio mandare anche i nostri saluti a Andy Rage a Daniela Ravizza a Bruno Tucci che ringrazio Mauro Buaretto Franco Cirelli ciao Franco Paolo Padoan anche lui per esempio si occupa di service molte persone che ci ascoltano sono per esempio legate al mondo artistico che non è soltanto ascoltare la musica ma dietro c'è un mondo lavorativo che è fermo con i cinema e i teatri fermi ci sono tutta una serie di dipendenti che tu senz'altro hai avuto modo di conoscere che anche loro sono completamente fermi c'era stata questa parvenza di ripartenza in maniera contingentata per alcune situazioni di eventi eccetera ma è di nuovo tutto bloccato e anche questo è un altro di quei settori che fanno parte dell'elenco che facevamo prima che sono penalizzati in maniera estremamente dura dura esatto e hai ragione cioè bisognerebbe prevedere degli interventi degli interventi più importanti e più mirati e a praticamente a renderle a tenerle in piedi queste piccole aziende e si tengono in piedi solo dando un ristoro effettivo non non la chiamiamola tra virgolette le lemosine che hanno fatto perché il ristoro di cui si parla è stato quello che è stato fatto ad agosto non a tutti arrivato e di cui parla adesso tiene conto solo di alcune di alcune alcune mensilità tipo quello di agosto teneva conto del ristoro era pari al 20% la differenza del fatturato fatto tra negativa tra aprile 19 e aprile 20 capisce bene che una società un'attività non 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 svolge l'attività o la sua attività in un solo mese e la svolge durante il corso di un anno quindi il ristoro va intenso nel senso di ehm prevedere un contributo a fondo perduto eh sul fatturato dell'anno 2019 svolto eh accertato dalla dall'azienda casomai anche con perché ci sono anche tante aziende casomai non hanno presentato la dichiarazione o non hanno presentato il bilancio eccetera casomai anche prevedendo prevedendo eh un un un'allegazione nella nella domanda del di un di un di un prospetto di quello che è stato e quello che è stato il reale volume che poi è quello contabilizzato eh diciamo il reale volume dell'anno dell'anno 2019 dove effettivamente su qualche attività c'era stato qualche un po' uno spiraglio di luce che poi è stata no lo so perché su alcuni settori c'è stato c'è stato una piccola ripresa purtroppo oggi dobbiamo ragionare sempre in termini molto non ci sono quegli explo che si facevano 20-30 anni fa eh quando il mercato tirava anche perché qui siamo in un mercato globale quindi che sottostate le regole abbastanza a volte anche diciamo controproducenti per gli stati certo però diciamo che in certo qual modo il 19 come anche il 18 fine verso la fine del 18 c'era era stato per alcune tipologie di attività c'era stata una certa qual ripresa che poi è stata diciamo abbattuta violentamente da questa da questa situazione da questa pandemia è certo e quindi questo come è stato fatto negli altri paesi si sono ristorate in questo senso cioè dando una percentuale in percentuale sul fatturato realizzato l'anno precedente non sui mesi e in percentuale ancora cioè se io al mese di aprile ho fatto 10.000 euro ad aprile 19 ho fatto 10.000 euro ad aprile 20 ho fatto 0 io come ristoro ad agosto avrei dovuto percepire solo 2.000 euro capisci bene che il 20% è di 10.000 capisci bene che cosa può fare 2.000 euro non si pagherà l'affitto certo non è e quindi a questo punto qua è come se il problema è di nuovo ricaduto quindi noi abbiamo da questo punto di vista abbiamo le istituzioni che come io sostengo se è un'opinione mia strettamente personale confutabile però io dico che le istituzioni non e mai stanno vicino alla realtà piccola e media di cui è costituito il tessuto economico dell'Italia quindi disattendono quella che è una realtà oggettiva una realtà oggettiva del tessuto economico italiano ecco quello è abbastanza è abbastanza diciamo preoccupante e comunque è stato sempre così ecco voglio dire non è che è stato sempre così è stato c'è sempre stata una penalizzazione nei confronti del 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 dei dei settori produttivi e quindi l'imprenditore il piccolo imprenditore il lavoratore autonomo deve come al solito arrangiarsi da solo e cercare di fare di fare i miracoli gli italiani ci riescono ancora per fortuna per fortuna quindi a volte non hanno però ci sono tantissime situazioni di di un'estrema gravità che fanno sì che poi queste questi 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 soggetti poi siano portati alla chiusura definitiva dell'attività con tutte le conseguenze che comporta sia a livello diciamo generale sociale ma anche a livello poi personale perché io poi ho assistito tante volte a effettivamente nel tuo mestiere nel tuo mestiere sicuramente hai accompagnato magari degli imprenditori in situazioni di dura e poi anche a livello personale ci sono poi delle 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 ripercussioni a volte non facilmente superabili dipende poi dal soggetto che ci capita sì esatto abbiamo visto più volte situazioni di imprenditori esatto che che compiono gesti estremi quindi sì mi rendo conto ecco che che sicuramente non è non è facile vorrei diciamo domandarti ancora una cosa siccome insomma è chiaro che questo è sempre questa nostra situazione è un un continuo progredire un continuo variare anche perché siamo legati ai numeri di questa pandemia che stanno condizionando effettivamente in maniera piuttosto importante tutta la nostra vita quotidiana e quindi anche lavorativa ovviamente ma mi chiedo ti chiedo dal tuo punto di vista il fatto che stia arrivando pare ci stanno annunciando l'arrivo di un di un vaccino potrebbe 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 darci uno spiraglio certamente certamente contribuisce moltissimo a patto che anche lì si si faccia poi una campagna globale di vaccinazione si 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 faccia la cosa giusta che bisogna fare non è che poi hanno già parlato che si destina prima ai dipendenti oppure prima al personale vabbè ok prima al personale sanitario però che sia poi effettivamente per carità con tutte le le accortezze e le limitazioni del caso che sia diciamo utile efficace per tutta la per tutta la popolazione che serva da diciamo da tanto da deterrente definitivo per questa per questa per questa pandemia e poi la ripartenza che consente almeno così la ripartenza di tutta la vita economica e sociale economica e sociale perché è rimasta come anche la vita sociale ne ha risentito di questo perché il fatto stesso adesso a parte economica è importantissimo ma anche la vita sociale anche nei rapporti interpersonali quindi questo distanziamento questo fatto che non ci si possa aggregare si sono divisi addirittura anche i nuclei ecco anche i nuclei familiari certo perché diciamo che in questo momento col fatto di proteggere le persone effettivamente esatto c'è anche un risvolto sociale abbastanza significativo e pesante perché la gente si trova nell'ambito dello stesso nucleo a non poter più avere addirittura rapporti sì esatto soprattutto non fossero anche solo rapporti di vicinato comunque rapporti di normali di convivenza esatto calcolando che per esempio in questo momento noi siamo in zona rossa quindi il nostro lockdown prevede la non possibilità di spostamento tra un comune e l'altro ecco e voglio dire magari non ti permette di vedere parte della famiglia che magari è soltanto ci sono anche delle anche lì si hanno creato anche lì sono delle situazioni di disagio perché chi ha casomai c'è il genitore in un'altra regione o che non può usufruire dell'assistenza privata eccetera e ha bisogno della presenza del familiare anche lì si è creato un certo qual disagio anche se in quel caso lì ci sono ci sono le norme per cui potrebbe esserci diciamo la possibilità la possibilità di però anche lì bisogna organizzarsi ed è molto difficile è problematico certo senti ancora una cosa sta arrivando il Natale il momento in cui le attività quasi tutte insomma le attività di solito hanno un picco positivo perché per quanto ogni famiglia limiti gli acquisti o comunque si muova a seconda dei propri budget però insomma bene o male il periodo natalizio è un momento in cui si si torna normalmente a investire a spendere nei regali insomma nelle festività eccetera dal tuo punto di vista possiamo sperare in una piccola come dire ripresa da questo punto di vista io ti ho detto io sono sono 42 anni che lavoro e sono stato sempre ottimista mai come in questi ultimi periodi effettivamente mi devo un po' ricredere anche di questo mio ottimismo e fiducia negli eventi c'è questa situazione a parte le piccole imprese eccetera ha creato anche anche nei confronti del privato ha creato una certa qual diciamo attenzione e discorso di non so come dire di chiamiamolo un po' come dire anche occulatezza quindi anche il soggetto privato che sarebbe il privato cittadino che deve poi che poi dà una mano all'economia è certo perché acquistando può girare e quindi fa muovere anche quello lo vedo un po' lo vedo un po' in sottotono nel senso che il privato ma anche in questo anche il privato il il dipendente pubblico il dipendente privato il dipendente privato a parte che il dipendente privato è penalizzato in ogni caso certo perché il dipendente privato sottostà soprattutto nelle regioni rosse alla spada di tamocle della della cassa integrazione che non arriva sì 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 quindi ci sono anche il dipendente pubblico quindi il dipendente non con una ragione un po' con una certa occulatezza prima di fare una determinata affrontare anche fosse pure una piccola spesa ci pensa due tre volte sì perché diciamo che siamo condizionati comunque un pochino dalla paura esatto la situazione in generale che ha provocato questo quindi eh sì qualcosina forse se rilasciano se rilasceranno lavorare che poi oramai è imminente se ormai stiamo aspettando sia dovrebbero fare dovrebbero consentire eh atteso che eh se la curva dei degli sia dei contagiati che dei morti o che comunque dei dei tamponi venga cioè sia si inverta la tendenza a consentire almeno di i 20 giorni successivi fino alla fine dell'anno di poter eh diciamo lasciare libera apertura ai negozi almeno certo con le con le norme di sicurezza ma prevedendo tutte le norme di sicurezza io ritengo che eh forse anche visto che è stato subito quel duro colpo all'inizio dell'anno bastava in questo periodo far osservare solo rigidamente le norme di sicurezza quindi distanziamento ma con l'utilizzo della mascherina diciamo così secondo me secondo il mio modesto parere ripeto io non sono un sanitario ma secondo il mio modesto parere forse si riusciva a eh abbastanza a diciamo a far fronte al 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 ritorno del del della della pandemia che poi è stata un po' come si dice è stata un po' provocata anche da noi stessi perché si è rallentata a un certo punto poi siamo di nuovo tornati un po' come ai tempi del come a febbraio marzo dopo le ferie per via di questo un po' tutto questo movimento delle persone un po' di questa idea di normalità che forse ci aveva pervaso però io direi però io non in forma violenta almeno stando mi sembra i numeri che vengono vengono enunciati ogni sera per televisione è un misura un po' più pochettino più blanda rispetto a febbraio marzo inizio la pandemia però usando le tutte le precauzioni ritengo che si poteva anche tranquillamente continuare o comunque forse in maniera diversa voglio ancora salutare le persone alcune delle persone che io vedo non le vedo purtroppo tutte come dico sempre noi li salutiamo tutti salutiamo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito e quelli che ci seguiranno nel riascoltando la puntata mando un saluto ad Ada Tarchetti Adriana Resegotti Saverio Alosa Fabio Fabio Marino Roberto Esposito ci manda un saluto Adriana Ciardo ciao Adriana un saluto anche a Danilo Pagano al maestro d'arte Doriano Missora che anche lui avremo modo di sentire proprio su questo tema su questo le categorie che insomma lui fa parte di quelle come Laura Mosca che praticamente sono state tra le più penalizzate perché collaborando lavorando con le attività spesso sono di abbigliamento comunque non sempre sono attività di prima necessità diventa difficile ci sono stati molto fermi inevitabilmente il fatto che c'è alcune attività tipo il bar che già per esempio il bar è un luogo d'incontro diciamo anche si limita quello si limita anche il locale la palestra eccetera fa sì che poi tutta la vita sociale abbia abbia una ripercussione negativa è inevitabile è quello che non è stato sì perché comunque perché se no oggi cosa fa oggi cosa fa sei solo tu e un computer o solo tu e un telefonino è aberrante quello ci va sempre la vita sociale deve avere perché altrimenti colloquiamo solo con un telefonino con un computer perché non è esatto questo è un grande un grande limite perché noi esseri umani siamo siamo animali comunque di contatto no e quindi ancora un saluto anche a Fabrizio Scarpa che ci sta seguendo allora noi siamo arrivati alla fine del nostro incontro ci spero insomma ci incontreremo la settimana prossima auspicando che ci sia qualcosa di nuovo che ci siano delle novità che noi possiamo in qualche modo condividere soprattutto in base vediamo se effettivamente questa novità più che novità questa cosa nuova che per la prima volta si è parlato di quindi scostamento esporamento dei limiti del bilancio dello Stato possa far sì che la ripeto l'importo diciamo a debito della comunità venga e del bilancio dello Stato venga poi venga giustamente diciamo impiegato per per cominciare questa ripresa perché poi in effetti i colpi i colpi contro cui sono stati molto forti ecco perché noi praticamente l'anno 2020 diciamo che un po' per tutte le attività è saltato eh sì quindi non c'è più solo il bar la discoteca c'è anche l'industria come ho detto qualche altra oggi c'è anche l'industria perché è tutto concatenato purtroppo la vita economica si svolge a stretto giustamente a stretto contratto con quella che è la vita sociale e quindi il mercato è diciamo sprofondato diciamo in una situazione un po' di stallo un po' di stasi di fermo che ha fatto sì che anche le attività che non c'entrano niente con quelle fermate dai vari dpcm subiscano delle conseguenze questo io lo so per certo perché oltre ai bar ai ristoranti alle discoteche alle palestre c'è la piccola officina che stampa i pezzi per la macchina c'è l'artigiano che nulla a che vedere col bar quindi lì non c'è né assembramenti né però anche lì il mercato non risponde come dovrebbe rispondere causa anche se capisce la situazione di generale incertezza provocata dalla 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 pandemia però poi se ci si mettono anche i provvedimenti o i non provvedimenti adottati capisci che la situazione diventa molto pesante certo che si va bene io ti ringrazio ti ringrazio per questa condivisione ci diamo appuntamento alla settimana prossima sperando in notizie diciamo più confortanti sperando esatto che ci sia qualche spiraglio positivo su tutti i fronti insomma ce lo auguriamo di cuore e a questo punto facciamo il punto torna la prossima settimana io ti ringrazio infinitamente un grazie e un saluto a tutti i nostri ascoltatori e alla prossima sognare si può bip music record professor sanchez edward j Quando arriva al party, tutto il mondo la mira Ella si pone così, molto attrativa Le gusta llamar la atención, pura tentazione È una mami che ti saca di concentrazione Luce TV, che questa notte, mami, io ti voglio vedere Quisiera io contigo...